Ben ritrovati a Tamburo Battente, la trasmissione di approfondimento di Teleniguria Sud che conduco insieme al collega Renzo Raffaelli. In questa settimana si è parlato molto del porto mercantile, per parecchi giorni si è discusso su una questione che potrebbe pesare fortemente sull'economia e sull'andamento dei traffici, ma soprattutto dell'economia portuale della nostra provincia. Cosa succede? L'alarme è venuta proprio dagli operatori portuali. L'allarme è questo, sono in via di realizzazione i corridoi doganali, in modo che la merce passa direttamente dalla nave, arriva poi ad altri territori che non sono i territori nostri, tipo il retroporto di Santo Stefano Magra. C'è un'allarme? Perché c'è un'allarme? Perché rischiamo di diventare, come dicono gli addetti ai lavori, un porto telepass, cioè la merce arriva e va subito via e non viene lavorata. Voi sapete benissimo, perché la nostra economia si basa molto sul porto mercantile, oltre che sulla nautica e sul turismo, ma soprattutto sul porto è la lavorazione dei container, vengono scaricati e portati a Santo Stefano e qui lavorati. Ed è qui che c'è veramente un grande sforzo economico che è una ricaduta notevole sulla nostra economia. Per parlare un po' di questo problema, perché è un problema molto importante, importante perché la classe politica deve intervenire, perché quello che stanno dicendo gli operatori portuali non deve cadere nel vuoto. E noi abbiamo invitato oggi un operatore portuale, Bruno Pisano, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, perché da lui vorremmo capire meglio cosa sono questi corridoi doganali e perché c'è questo allarme da parte vostra. Certo, allora, innanzitutto grazie per l'invito, è sempre un piacere. I corridoi doganali in questo momento, non vorrei poi annoiare con tecnicismi, però rappresentano un po' l'essenza di due modelli di porto che si stanno contrapponendo al momento. Un tempo le attività doganali, gli sdoganamenti avvenivano direttamente nel porto, adesso le normative permettono di spostare la merce prima dello sdoganamento verso punti diversi dal porto, verso punti dell'interno. È estremamente importante però capire quali sono le fasi logistiche che caratterizzano il traffico contenitori. Siamo il porto di La Spezia, grazie all'efficienza dei suoi terminalisti e del suo sistema, è diventato un punto nodale nella geografia del mondo globalizzato. Siamo un porto estremamente importante nei traffici del mondo globale e rappresentiamo a livello portuale un segmento, le navi arrivano, i contenitori vengono scaricati. È un segmento estremamente importante ma minimo perché questi contenitori, questi scatoloni non sono fine a se stessi come non vivono di vita propria ma sono le fasi logistiche successive che rappresentano la vera ricchezza del contenitore. Queste scatole si aprono e all'interno il carico di questi contenitori viene distribuito fino a portarlo o nelle aziende, nelle fabbriche che useranno questi materiali per produrre i loro prodotti o per quanto riguarda i prodotti finiti sugli scaffali dei negozi che da Catanzaro a Trento operano sul territorio. Quindi il tema è questa, è la fase di lavorazione successive, la cosiddetta logistica integrata. È banale, sapete, prendere un cartone e spedirlo in qualche parte d'Italia. È estremamente complesso aprire un contenitore da 12 metri, tirare fuori migliaia di cartoni e far arrivare in poche ore al punto di destinazione ogni cartone al punto giusto. Quindi tanto per dare un'idea. Quindi il contenitore che sbarca da una nave e va su un camion, il lavoro di 10 minuti in un quarto d'ora di un gruista, ripeto, è estremamente importante perché a Monte c'è tutta un'organizzazione, ma il lavoro di rottura del carico e distribuzione è il lavoro di una settimana di 10 uomini per ogni contenitore. L'allarme perché nasce? Da dove nasce l'allarme? Nasce l'allarme perché per gestire queste fasi importanti che sono la vera ricchezza del container e della logistica esistono due tipi di corridoi, quelli che di breve raggio che collegano il porto di La Spezia a Santo Stefano Magra, dove molti imprenditori hanno investito, hanno sviluppato attività e che grazie a questi corridoi è Santo Stefano Magra che insegnano i bambini alle scuole che è una delle più grandi pianure della Liguria, è diventata la banchina lunga del porto, del porto mercantile. Esistono poi i corridoi doganali che invece portano all'interno, nella pianura padana o all'interno i vari contenitori e quindi a quel punto le successive attività vengono in qualche maniera perse. Ora è chiaro che un porto importante come il nostro deve bilanciare le due fasi e quindi dobbiamo avere una logistica di prossimità, dobbiamo servire i territori retrostanti. Invece la dogana di Spezia? La dogana di Spezia ha interrotto i contenitori di prossimità, quindi i collegamenti su Santo Stefano. E quanto l'ha fatto? L'ha fatto dall'inizio di quest'anno, in questo momento è tutto sospeso perché c'è un contenzioso in atto con il Tar, ma il problema vero, insomma quello che ha probabilmente amareggiato e creato tensione all'interno degli operatori che nessuna istituzione, nessun ente di controllo, nessun soggetto che dovrebbe tutelare sul territorio il lavoro, gli investimenti e quant'altro è intervenuta per contrastare questa iniziativa della dogana che è incoerente rispetto alla storia della dogana alla Spezia che è sempre stato un esempio di innovazione, ma anche alle indicazioni nazionali che spingono sull'innovazione. Quindi una procedura innovativa che avevamo alla Spezia è stata dalla sera alla mattina interrotta. Come era giustificata la dogana? Le solite carenze di personale dell'ambito pubblico che in qualche maniera hanno interrotto questo flusso. Allora il tema è questo, il corridoio, le due visioni che si contrappongono, dicevo prima, legate al corridoio. Il porto telepass in cui i contenitori passano e velocemente se ne vanno via. Il porto che invece aumenta la sua efficienza grazie ai servizi logistici sul territorio, ma non solo, a organizzazioni, investimenti, alle zone logistiche semplificate, alla cultura portuale e alle competenze. Questo apre un altro tema caro agli operatori sulla volontà di portare alla Spezia la facoltà di economia, logistica e trasporti che già esiste a Genova e già esiste a Livorno. Perché la finalità è di legare ricchezza e opportunità a un territorio che ha sempre dimostrato capacità di innovazione ed efficienza anche per garantire ai nostri giovani opportunità sul territorio che questo enorme flusso di merce che arriva nel porto di la Spezia potrebbe garantire. Ecco, in questi anni, Pisano, i grandi corridoi, i fast corridors come li chiamano, sono stati presentati come veramente una frontiera nuova della logistica nazionale e internazionale, perché consentono il tracciamento del percorso dei contenitori con dispositivi di geolocalizzazione satellitare che sono controllati, che sono in mano gestiti dalle aziende, ma controllati ovviamente dalle dogane. Ecco, il centro logistico di Santo Stefano a questo punto può inserirsi in questo schema, in questo sistema, oppure le economie di scala che garantiscono i grandi corridoi rendono, come dire, non dico superfluo, ma rendono deficitario il centro di Santo Stefano? Assolutamente, Santo Stefano è l'impianto che è stato creato, il sistema porto, che non è fatto solo di banchina portuale, ma di, come dire, di un sistema complesso di economie allargate che si è creato per collegare Santo Stefano alla Spezia, ha sperimentato per primo questo tipo di geolocalizzazione, questo tipo di controllo a distanza che l'amministrazione pubblica poteva esercitare sui container che si spostavano dal porto e quindi è stata una frontiera innovativa perché voi sapete che in Italia abbiamo porti storici che sono compressi alle spalle dalle città, quindi non hanno possibilità di espansione. La possibilità di collegare il retroporto, un retroporto di prossimità a sei chilometri come abbiamo qua, è una fortuna che non esiste in nessun altro punto della Liguria. In questa maniera, con geolocalizzazione, controllo doganale e spazi autorizzati a livello doganale a Santo Stefano, praticamente ha collegato le aree di Santo Stefano alla banchina portuale e quindi questo è stato un valore aggiunto che giusto alla Spezia potevamo avere e che in qualche maniera si è interrotto con questa iniziativa della dogana. E certo, quando pensiamo a Santo Stefano, a 100.000, l'ho letto l'altro giorno, 100.000 metri quadrati di magazzini coperti, 600.000 metri quadrati di aree attrezzate, 5 milioni di imprenditori spezzini che hanno investito negli ultimi 5 anni su questo centro, vengono i brividi a pensare e la cosa che mi fa veramente meraviglia è il fatto che hanno protestato soprattutto, hanno lanciato un grido d'allarme gli operatori portuali, ma la politica è stata silente, non si è sentito nessuno. Lei come lo spiega? E questo è stato un po' il tema che in qualche maniera ha amareggiato e ha portato poi negli ultimi tempi gli operatori portuali a lanciare questo grido d'allarme. Poi capisco, ho letto l'intervista del Presidente Sommariva, capisco che in questo momento siamo in una fase di rinnovo delle nomine, quindi le cose possono essere lette a volte o strumentalizzate a favore o contro determinate situazioni. Non è assolutamente questo il tema per quanto riguarda gli operatori. Gli operatori in questo momento, di fronte a una difficoltà di questo tipo, stanno lanciando un'allarme perché qua si tratta di essere coesi di fronte alla visione e al modello di porto che vogliamo per questa città. Quindi il porto telepass o il porto che garantisce efficienza, crea trazione per la merce e garantisce ricaduta opportunità, perché poi è questo il tema. Non si tratta di, dico una cosa, un tempo c'erano i camalli genovesi che dicevano qua da passare e quindi in qualche maniera volevano imporre una posizione, una posizione dominante, una rendita di posizione che insomma la geografia e la storia gli dava. Qua noi vogliamo fare efficienza, vogliamo creare situazioni e servizi attrattivi. Quei metri, quelle migliaia di metri e quegli investimenti di cui parlava lei, sono specializzazioni sui carichi eccezionali, abbiamo eccellenze che hanno magazzini refrigerati, che hanno servizi dedicati alla merce, proprio per legare la merce e rendere più attrattivo il porto e tutto questo in un sistema virtuoso che porterà maggiori volumi al porto se dietro ci sono questi servizi, maggiori volumi a questi servizi grazie a un porto così importante e efficiente come abbiamo. Il nostro porto Pisano è sempre stato una sorta di gioiello perché pochi spazi ma efficienti, tra l'altro con le dogane c'era stato un accordo molto importante perché siamo stati credo tra i primi in Italia a far sbarcare la merce che era già praticamente sdoganata perché c'era un controllo preciso. Esatto, preciso. E come mai si è arrivati a questa rottura? Diciamo che come dicevo è sicuramente, questo è stato il porto laboratorio, il porto dell'innovazione, nonostante le dimensioni, qualcuno lo definiva un tempo, il miracolo spezia, anche se questa parola non piace tanto agli operatori, i miracoli avvengono per grazia di Wisden, qua c'era tanto lavoro dietro e tanti impegni. Ma su ogni metro lineare di merce ne passava tanta. Assolutamente. Il miracolo era quello lì. Il rapporto metri quadrati contenitori di spezie è il quarto al mondo, è pari a Hong Kong, siamo veramente a livelli di eccellenza ma si sono sviluppate sul territorio e mai abbastanza conosciute localmente delle realtà che sono veramente eccellenze nei vari settori, per i vari produttori doganali e quant'altro. La dogana è sempre stato un elemento fondamentale di questo sistema perché questo sistema si basava sulla piena comunità di intenti e condivisione della visione portuale fra pubblico e privato. Per questo insomma questa tendenza, questo tornare indietro di molti anni, perché poi questi corridoi esistevano ormai da una decina d'anni quasi, su una procedura ritenuta innovativa a livello nazionale ha lasciato molto perplessi perché ripeto è contro quella che invece è sempre stata una tendenza della dogana all'innovazione sia a livello locale ma tuttora a livello nazionale. Ecco, ma lo si può spiegare con la pressione della politica di aree forti economicamente che possono appunto far valere il peso dalla loro presenza nell'economia nazionale oppure soltanto come dire un atteggiamento di insipienza, di superficialità della dogana, cosa di cui dubito peraltro? Diciamo insomma le motivazioni che sono state date in una prima fase erano legate alle risorse, alla carenza di personale. Probabilmente questo è successo verso la fine dello scorso anno e quindi in un momento in cui il porto della Spezia aveva una flessione tale da rendere quasi quasi inspiegabile questo atteggiamento. Però al di là di tutto diciamo che il pubblico a volte segue iniziative che magari non sono perfettamente coerenti rispetto alla logica dei traffici, alle ragioni delle merci in questo caso e degli operatori. Ebbene per quello che ci si aspettava una presa di posizione diversa a livello di sistema purtroppo ad oggi non c'è stata, non escluso che insomma ci sarà prossimamente. Ma avete chiesto un incontro con la dogana? Sì, sì, sì. Diciamo chiaramente prima, alla fine sono partiti dei ricorsi al TAR e quindi per quello insomma ormai dopo un po' di anni che seguo questa attività denunciare la dogana non è mai una buona idea e quindi prima di arrivarci evidentemente i tentativi di mediazione sono stati diversi però probabilmente in questo momento è mancata, secondo me è mancata un po' la spinta politica, mi passi il termine, nello spiegare che questo era l'anello di congiunzione fra porto e retroporto, che rendeva un porto con così limitati spazi, che ampliava la banchina di un porto con così limitati spazi. Ecco, diciamo che sino ad oggi non siamo riusciti a, non è stato possibile far passare questo messaggio e ci auguriamo insomma, non tutto è perduto, ci auguriamo che insomma, ed è questa anche la finalità del grido d'allarme degli operatori, nessuna polemica, nessuna strumentalizzazione politica, semplicemente il voler, come dire, rendere tutti coscienti, il fatto che oggi io sia qua probabilmente già è un risultato, rendere tutti coscienti di un pericolo che non è il pericolo di oggi del contenitore in più in meno che può andare a Santo Stefano, ma il pericolo è quello di compromettere un modello di porto, una visione che è una visione che traguarda i prossimi anni. Ecco, ma quello che, se ho capito bene, il discorso di questo porto Telepass dovrebbe interessare anche i sindacati, perché ovviamente un contenitore che se ne va, occupazione in meno, quindi io non so proporzionalmente cosa potrebbe succedere, però se viene meno Santo Stefano verranno meno anche forse decine di posti di lavoro. E' quello che, quando dico che ad oggi, forse anche per un difetto di comunicazione degli operatori, metto tutto dentro, però ad oggi nessuno, e quando dico nessuno, parlo anche di sindacati, parlo oltre ai decisori di questa città, alle istituzioni, pur sapendo ha fatto nulla. E quindi, insomma, da lì è partito questa segnalazione, questo grido d'allarme, che speriamo che permetta di nuovo a tutto il sistema, a tutto il cluster portuale spezzino, di ricompattarsi e di ridefinire quelli che sono i progetti e i percorsi. Ecco, Pisano, se il TAR che ha decretato la sospensiva dovesse non darvi ragione, ce l'avete un piano B? Diciamo che diventa un grosso problema, è difficile individuare un piano B in questo momento. Un piano B dal punto di vista tecnico-doganale, perché poi alla fine non si tratta di... questo tipo di autorizzazione nasceva dalla... aveva il supporto di quelle che sono le normative comunitarie doganali, per quanto riguarda gli operatori certificati. E quindi si tratta di trovare, ma probabilmente si aprirà un confronto, un dibattito, si tratta di trovare le basi normative per individuare delle soluzioni alternative. Ad oggi, in tutta sincerità, non le conosco. È difficile individuare. Sì, Pisano, questa storia viene fuori proprio in un momento in cui la città si è sacrificata parecchio per il porto, ha avuto parecchio dal porto, come dall'arsenale, sotto l'aspetto della Marina Militare, ma proprio in questi giorni partiranno gli appalti per la questione del canaletto, il terzo bacino. Una città che si è sacrificata, ha sacrificato un quartiere storico, e poi in questo momento che viene fuori, che insomma rischiamo di perdere, non la competitività, perché questo porto l'ha sempre avuto ed è sempre dato prima, però rischia di perdere posti di lavoro importanti. Questo le autorità forse dovrebbero fare un piccolo pensiero su queste finalità che poi andremo incontro. È assolutamente così quando dico che dobbiamo ricompattarci intorno a un modello di porto che sia condiviso e che sia quello sostenibile per il territorio e per la città. Ecco, a volte, diciamo, il passaggio in più sui social o per l'articolo di stampa portano forse in un ambito così tecnico come il nostro a far perdere di vista quello che è il percorso e che sono gli obiettivi. Quindi ho sentito, siamo bene o male, tutto questo è stato anche, come dire, enfatizzato e pubblicizzato come una vittoria di questo porto e un risultato di questo porto verso l'innovazione, siamo il porto che ha il maggior numero di corridoi, di fast corridor, verso l'interno. Qualche domanda dobbiamo farcela perché sono davvero tutti indispensabili, ma davvero sono tutti... E cosa portano in più al nostro scalo? Sappiamo cosa portano in meno, ma questi accordi cosa portano di più rispetto al nostro scalo? E sono accordi che non fanno i privati, sono accordi che comunque vengono, come dire, sanciti e supportati da tutto il sistema, anche pubblico e istituzionale. E quindi, ripeto, da qui nasce un po' di richiamo a una maggiore attenzione. Forse abbiamo perso il filo del discorso, non si tratta di fare protezionismi, ma di far operare, di lavorare gli operatori locali ad armi pari rispetto ai competitor della pianura padana che già hanno grossi vantaggi rispetto a noi, hanno spazi infiniti, costi più bassi, una struttura che inevitabilmente sono meno costose rispetto a quelle preziosissime che abbiamo in spazi limitati come in Liguria. Gli operatori locali hanno sempre giocato questa partita senza problemi, però fategliela giocare. Cosa succederà a Pisano con l'autonomia differenziata che da qualche giorno è diventata legge? Che impatto avrà sui porti italiani, secondo lei? Sì, questa è una bella domanda, ci sono molti dubbi da questo punto di vista, credo che sia abbastanza difficile capire gli scenari oggi. Sino ad oggi abbiamo assistito a un dibattito fra chi era a favore, chi era contro, a volte nemmeno troppo argomentato, ma più su schieramenti, su posizioni di schieramento. È abbastanza complesso dipingere scenari su dove andremo per il futuro dopo questo cambiamento. Devo dire che però per quella che è la realtà spezzina in questo momento abbiamo sfide, scadenze che probabilmente ci fanno guardare oltre la partenza della gara per quanto riguarda la Spezia Container Terminal. Quindi tutta una serie di attività che ci auguriamo ridia slancio a questo porto che peraltro sta in questo momento gestendo numeri in crescita rispetto al passato e quindi alla fine la partita che veramente questo porto si vuole giocare anche un po' come ha sempre avuto nel suo DNA e quella sull'efficienza e sull'innovazione. Ecco la crisi di Suez, l'abbiamo letto, l'abbiamo visto, ha creato parecchi problemi soprattutto nel Mediterraneo perché le merci fanno il giro dell'Africa. Com'è oggi la situazione? La situazione è di difficile valutazione. La crisi di Suez ha indubbiamente penalizzato per circa un mese il nostro scalo perché sapete che i grossi flussi del nostro porto in importazione arrivano dall'Estremo Oriente, dal Medio Oriente, dall'India, da questi paesi, quindi Suez e la porta d'ingresso per il Mediterraneo e per i porti Liguri. Quindi abbiamo assistito a un blackout preoccupante perché per quasi un mese, circa un mese, non sono arrivate navi nel nostro porto e questa è una situazione senza precedenti. La crisi continua e quindi ormai le compagnie si sono strutturate in modo da circunnavigare l'Africa. Questo ridisegna un po' quelle che sono le rotte. Potrebbe farlo in maniera positiva o in maniera negativa per quanto riguarda i porti Liguri e la Spezia in particolare. È chiaro che il rischio di far diventare il Mediterraneo un lago che le rotte internazionali, le rotte globali, tagliano fuori perché dall'Estremo Oriente, ci navigano l'Africa e vanno verso il Nord Europa. È un rischio reale, soprattutto se questa situazione andrà avanti a lungo. Ad oggi i vari mercati continuano ad essere gestiti, quelli da sud e dal Mediterraneo e quelli da nord e dal Nord Europa. In questa situazione diciamo che le navi che hanno perso settimane di tempo per circunnavigare l'Africa vediamo che nel momento in cui entrano nel Mediterraneo non fanno un giro completo come facevano prima ma si fermano nei porti più a ovest. Quindi sicuramente in questo momento l'Adriatico è penalizzato ma in qualche maniera diciamo che dalla Spezia abbiamo ricominciato a servire mercati sul nord-est d'Italia e quindi diciamo che non tutto è negativo. In alcuni casi le nuove rotte ci penalizzano soprattutto quando utilizzano porti di transshipment in Marocco, a Tangeri piuttosto che a Damietta ma in altre situazioni ci possono anche premiare. Quindi diciamo che in questo momento la situazione di incertezza e confusione è di difficile interpretazione ma non ha provocato salvo quel mese di chiusura totale non ha comportato grosse... Certo Pisano, se guardiamo il quadro geopolitico internazionale in grande fermento e per le guerre e per il terrorismo eccetera, le conclusioni, cioè le prospettive non sono delle migliori sembra quasi che la globalizzazione stia attraversando una stagione di grave crisi un po' perché molti paesi ormai spingono su politiche protezioniste e anche la guerra dei Dazi non è più una minaccia, è una realtà. Ecco tutto questo come si può, come può impattare sul traffico delle merci anche in Italia? Impatta tantissimo, impatta tantissimo, crea una situazione di incertezza in questo momento totale gli operatori economici fanno fatica a programmare perché sono troppe le variabili e sono oltretutto repentine e quindi si arriva a cambiamenti epocali che si fa fatica a riassorbire quindi passare dal... faccio un esempio, quando i tempi di resa dall'estremo oriente al nostro porto erano di 15-18 giorni, 20 giorni, nessuno lavorava più sulle scorte a magazzino si lavorava sul venduto, si comprava, arrivava la merce e si distribuiva dopo la pandemia, quando i giorni di resa sono diventati 100, quando hanno cominciato a scarseggiare le risorse adesso con Suez c'è una nuova tendenza invece a creare scorte di magazzino questo cambia completamente le logiche del... ma la sostanza è che qualsiasi operatore economico in questo momento è messo a dura prova la logistica conta a volte ancora più del prodotto che si acquista o si vende perché può fare la differenza, può rendere competitivo un'azienda piuttosto che no e in tutto questo la capacità che ha sempre avuto Spezia di pensare veloce ad adeguarsi come porto è sicuramente il valore aggiunto un tempo si diceva che il pesce grosso mangia quello piccolo in altri tempi si diceva che piccolo è bello diciamo che oggi il pesce veloce è quello che mangiavano nell'alto ascolto Pisano l'ultima volta che era venuto qua, ricordo in periodo di Covid perché avevamo la mascherina entrambi lei lanciò un allarme e disse non si trovano camionisti, vengono da fuori perché i giovani non lo vogliono fare in Italia è costoso accedere anche ai brevetti per camionisti e lei aveva auspicato, ricordo, un ricambio generazionale qualche segnale in questo senso c'è stato nel frattempo? diciamo che poi il mercato si è in qualche maniera assestato una riduzione anche dei volumi perché insomma la pandemia in quel momento sembrava fosse un grosso problema è diventato un booster per il settore quindi ha dato una spinta ulteriore all'epoca sapevamo che ormai il mestiere del camionista era un mestiere praticato non da italiani che quindi erano tornati per la pandemia ai loro paesi d'origine ma solo la metà era tornata indietro quindi in tanti si erano riadattati e avevano trovato perché magari erano persone arrivate quando nei loro paesi c'era grande difficoltà e adesso con i passi avanti che ha fatto soprattutto l'est anche alcuni paesi africani hanno ridato opportunità e quindi che è tornato per la pandemia non sempre è tornato indietro e in quel momento c'era una crisi di manovananza di mano d'opera importante diciamo che nel tempo le cose si sono nuovamente assestate adesso abbiamo comunque una situazione equilibrata quindi la tensione e la difficoltà di allora da questo punto di vista allora mancavano i camionisti oggi mancano anche gli autisti della TC perché di questi giorni la crisi della TC che non trova autisti quindi e lì un tema più generazionale insomma il volante è un problema è un mondo difficile senta prima di passare alle domande impertinenti le faccio l'ultima domanda ci sono anche le domande impertinenti sì, quattro domande impertinenti senta Pisano ma lei condivide le preoccupazioni degli ambientalisti sull'inquinamento provocato dalle navi da crociera? allora io da questo punto di vista non vorrei essere poi quello tacciato di essere di parte insomma in qualche modo però da quanto non mi occupo direttamente di questo tipo di traffici ma da quanto ci viene riportato dalla stessa autorità di sistema portuale le misurazioni fatte e quant'altro non destano allarme tale da giustificare insomma questo tipo di preoccupazione per cui io ripeto non è un settore che seguo direttamente inevitabilmente me ne sto dei dati che ci vengono riportati anche in sede di dopo lo scandalo del porto di Genova sarebbero più doverose le dimissioni del governatore Totti o quelle del CT Spalletti dopo la figuraccia dell'Italia all'europeo? siamo già riusciti a farla sorridere che è già un... no no vabbè ma io sorrido sempre sorrido dentro no vabbè io penso che... la domanda è scansionata però c'è un nocciolo duro diciamo che a Spalletti abbiamo dato giocatori scarsi e quindi è abbastanza difficile insomma poi se andiamo agli europei con questa squadra poi è inevitabile che questi siano i risultati indiferentemente da chi... Totti? mi fermavo lì sulla risposta ah solo su Spalletti solo su Spalletti a proposito delle vicende che hanno scosso la regione Liguria il porto di Genova ha una parte importante in questa vicenda giudiziaria che ha coinvolto la regione Liguria è mai capitato a lei o al suo mondo di dover ungere qualcosa per ottenere vantaggi? o è capitato a qualcun altro? no adesso insomma potrà sembrare il nostro porto è... ma no ma no cioè ripeto la sensazione che abbiamo avuto tutti nel leggere queste notizie nell'apprendere poi sono i vari servizi nel sentire anche questo tipo di intercettazioni è stato veramente di grande stupore perché insomma nel... per quelle che sono le attività per come sono... per come sappiamo che sono gestite in questo porto e per come in generale insomma normalmente vengono gestite insomma la sensazione è stata di grande stupore ecco quindi no tutto forché considerare normali situazioni di questo tipo poi sperando che ci sia una spiegazione a tutto questo nella comunità portuale spezzina lei Pisano è tra quelli rassegnati a considerare il raddoppio della Pontremonese come una battaglia persa? effettivamente visto che ero ragazzino andavo ancora a scuola quando ho cominciato a sentire parlare di Pontremonese se mai avrei pensato di occuparmene insomma ogni tanto qualche momento di scoramento effettivamente c'è dopo tanti anni però credo che non si possa abbandonare l'idea non si possa pensare adesso al di là dei container e delle merci ma siete mai saliti su un treno per Parma? saliva mai? ma esiste al mondo che c'è che nel terzo millennio nel 2024 noi abbiamo ancora questo tipo di collegamenti e io sono uno che per lavoro utilizza molto il treno vado spesso a Roma cerco ma la domanda che mi faccio perché poi sembra veramente la la crociata degli operatori ma è possibile che una città come la Spezia uno sbocca mare come la Spezia da Emilia Romagna quindi con tutto quello che comporta perché poi avrete anche fatto la Cisa nei momenti di punta le code di ore ma nel terzo millennio si può pensare a questo tipo di collegamento per un paese avanzato è possibile che non se ne parli più però perché questa è la domanda non se ne parla più è pazzesco è veramente pazzesco che poi tutta questa questa necessità venga fuori dal mondo della logistica venga fuori dagli operatori di settore e venga portata avanti quando qualche politico coglie il grido di allarme e si impegna come è successo anche recentemente ma poi sembrava che se li fosse messi in moto perché l'onorevole Paita Orlando avevano già cominciato a parlare di nuovo progetto poi non se ne è fatto più niente esatto bene l'ultima domanda Pisano c'è un intervento mancato o un intervento che non ha condiviso in questi anni di Mario Somariva il presidente dell'autorità portuale guardi io penso che la Spagna e la Francia siano le squadre più attrezzate per vincere gli europei però è una manifestazione particolare e le sorprese sono dietro l'angolo ho risposto bene? benissimo salutiamo al di là di tutto non voglio andare allora l'azione abbiamo apprezzato molto il presidente Somariva perché è arrivato qua la Spezia forte di una grandissima competenza una grandissima esperienza di una grandissima capacità di ascolto e di condivisione io la cosa che evidenza e sottolineo come veramente importante è che ha ridato come dire significato a istituzioni come il tavolo di paternariato proprio per condividere con tutti gli operatori tutta una serie di iniziative quindi da questo punto di vista è doveroso e giusto che al di là delle battute questo venga sottolineato perché non sarebbe corretto non farlo poi in una situazione particolarmente complessa come quella in cui si è trovato lui a muoversi dalla pandemia in poi tutto è perfettibile qualcosa in più probabilmente si poteva fare una cosa visto che ne abbiamo parlato insomma questi corridoi mi sarei aspettato anche da questo punto di vista il fatto che l'abbia sottolineato lui in questo articolo sui giornali che andrebbero tutelati e beh spero che visto che non è stato fatto sennò ad oggi che succeda da domani perché se no non riesco a capire chi dovrebbe tutelare grazie Pisano grazie a tutti voi che ci avete seguito ancora una volta vi aspettiamo la settimana prossima prima delle vacanze estive buon taburro battente a tutti ci saremo ancora io e Riccardo Sottani sulla prossima settimana buona serata grazie a tutti